Partiamo dal terzo. Allora, al terzo posto delle crew abbiamo scelto i Blazing Star 7. Sono i suoi applausi. Come siete? Vi abbiamo adorato, vi avete fatto vedere le caldane con la vostra limido. Adorate. Adorati, anzi. Bravissimi, davvero. Adesso faccio dire il secondo posto invece a Cristian. Secondo posto, Rabbanegi. Se mi permette ho dato qui una nota di merito. Sì, c'è una nota di merito per uno di voi. Vai pure, indicaci quale è la nota di merito. Per Laura. Adesso è il momento del vincitore. Ed ora, il vincitore, quindi al primo posto di questo contest per la sezione crew, sono le Xtreme. La Xtreme! Vabbè, il cane è croce. Fantastico. No, fantastico. Ciao, ciao, bello. Facciamo un applauso all'Extrima. Bravissime. Devo dare io una nota qui. Sì, ah, velocissimo. Allora, innanzitutto bravissime, siete davvero bravissime, veramente spettacolari. Ma io voglio dare una nota di merito a lei. Come ti chiami? Elisa. Elisa. Ecco, Elisa, mi raccomando, la prossima volta voglio vederti ancora di più davanti. Cioè, sei spettacolare, davvero spettacolare. Complimenti. Complimenti. Comprimenti. Una clava a questo podio fantastico. Arriviamo dai solisti. Arriviamo ai solisti. Quindi faccio partire a Silvia. Vai, Silvia. Gaia, dal terzo posto. Cambia. Terzo posto per categorie solisti. Gaia. Ciò è proprio da Gaia? Da Gaia. Eccola. Brava, bravissima. Adorato. Io dico il secondo posto, che è anche la mia menzione d'onore, che è Jay. Bra, Jay. Grazie mille. Grazie mille. Hai reso un onore anche a me, perché è tipo un dio di hip hop. Bravissima. Bravissima. E passiamo a vincere la categoria solo. Uh. E per il primo posto invece, categoria soli, vince XB Rass. Bravissima. Bravissima. Dov'è? Eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Facciamo un applauso ai vincitori del nostro contest. Bravissimi a tutti. Complimenti, complimenti, complimenti ancora. Grazie alla vostra Giulia e ci vediamo a voi soprattutto che siete stati qua fino alla fine, due ore di hip hop, wow. E a tutti i ballerini che hanno partecipato al contest. Veramente siete stati fantastici, siete stati tutti bravissimi, davvero. Non smettete, insomma, di continuare a ballare. Grazie a tutti.